Camille Saint-Saën nacque a Parigi il 9 ottobre 1835 e morì ad Algeria del 1921. Questa bellissima Ave Maria in La Maggiore, composta nel 1865, è inclusa nella raccolta delle sue opere sacre quando compose le vitanie della Beata Vergine. Di Camille Saint-Saën, Ave Maria. Ave Maria in La Maggiore, composta nel 1865, è inclusa nella raccolta delle sue opere sacre La Maggiore, composta nel 1865, è inclusa nella raccolta delle sue opere sacre La Maggiore, composta nel 1865, è inclusa nella raccolta delle sue opere sacre La Maggiore, composta nel 1865, è inclusa nella raccolta delle sue opere sacre La Maggiore, composta nel 1865, è inclusa nella raccolta delle sue opere sacre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.